Siete mia moglie, Caterina la gelosa, mi piacerebbe essere vostra moglie in tutti i sensi, Maria la servire, quale arti francesi avete imparato, Anna, Anna l'intrigante, no, non così, e quanti ancora i modi, si, è di sua maestà il figlio, per conquistare un re, diventeremo immortali, Jonathan Rhys Mayers, i Tudors, scandali a corte. In Prima TV Canale 5, domani alle 21.10. Una nuova sensazionale avventura ti aspetta, Mammoth a Gardaland, e l'emozione continua al nuovo acquario Gardaland Sea Life. Marco e Francesca hanno detto no al colesterolo. Ma non rinunciamo al piacere del gelato. Morbido e cremoso. Buonissimo. Il gelato Valsoia è vegetale, no al colesterolo, sì a Valsoia. Che stress, voglio cambiare aria. Ma sì, scelgo quella blu con gli ammortizzatori. Sto inglese, devo proprio impararlo. Lo scelgo io, il programma della serata. Ogni giorno è fatto di piccole e grandi scelte. Pagine gialle, chi sceglie sei tu. Acquafiuggi, cultura del benessere. C'è il senso sbagliato e c'è il senso giusto. Quello di Nuvenia. Gli assorbenti Nuvenia con SecureFit hanno un davanti e un indietro. Si adattano perfettamente al tuo corpo per proteggerti efficacemente dalle perdite. Prova anche tu il comfort e la sicurezza di Nuvenia. Quest'estate fai tutti i bla bla che vuoi. Con Summercard ti restituiamo tutto quello che spendi per le tue chiamate. Verso tutti i cellulari e i numeri fissi. Quando cresce e inizia ad esplorare il mondo. Quando la prima volta la più bella ti chiama mamma. Ogni volta c'è il nuovo Pampers Progressi. Così per lui che è sempre in movimento. Pampers Progressi ha creato l'esclusivo filtrante Assorbi Rapido. Per assorbire in ogni posizione. Persino a testa in giù. Così è libero di muoversi. Grazie all'unica linea che lo accompagna nella crescita. Con un pannolino specifico per ogni fase. Pampers Progressi. Nasce, cresce, corre. Chi esclusivo. Manuel Arcuri. Estate bollente con Ezio e l'amica Francesca. Valeria Marini. C'è chi gori sta male. Salviamolo. Cassano. Carolina mi ha cambiato la vita. E con chi la collezione Summer Chic. Questa settimana il mini abito in puro cotone in due colori è scelta. La vera energia è dentro di te. Basta sapere come accenderla. In ogni cellula del tuo corpo. Quando hai bisogno di vitamine puoi aiutarti con Supradin. Supradin. Multivitaminico con minerali. Per accendere la tua energia. Che giornata. È un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo. Bim, bum, balle, giù. Jolly. Uscito Jolly. Mille sfide e mille battaglie in questa sorta di West Point catodico-antropologica. Che è Chaudan. Dobbiamo entrare nel mondo della prova di coraggio. Basta così. Madre. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono Ciao Darwin. L'anello mancante. Venerdì alle 21.10 su Canale 5. E la prossima puntata... Il mondo dell'Occidente contro il mondo dell'Oriente. Per preparare una golosa marmellata bastano tre minuti di cottura con Cameo Fruttepec.